Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Come sapete ho fatto qualche video di SkyWay, uno di Tiger Ball ma oggi veniremo su questo gioco nuovo chiamato Crazy Dino Park Io sono andato già un po' avanti e vi faccio vedere un po' com'è Qua sta tutta la gente Sto signore dice quello che dovevo fare, che bella giornata per fare un po' di sport Accenti a due scontri e una l'arena E va, che dopo andremo a vedere la parte più bella Qua sta una cosa troppo da... Allora, un gombino da questo qua Devi trovare dei pezzi di mappa che dopo faranno fare delle missioni Bezzo Gemma buona Ok, vediamo questo Ok Ok, buono Buoni Questo qua è meglio di tutti Non potete mai vedere Ok Vedete il dolirico Questo qua lo tengo conservato da due giorni Un nuovo uovo, vediamo che cos'è Eh, che cos'è giuro Non questo No Eh sì Vediamo, ho detto proprio ecco I dinosauri acci sono un po' più forti quindi sono i migliori rottatori Se riusciamo a trovare un altro dinoso possiamo usarlo per creare il miglior rottatore di tutti Grazie Eh, penso che andrebbe Bella È un mio amico che mi chiamava Eh, non posso fare niente se mi chiama Questo qua sono i veloci raptor Allora Veloci raptor Secondo che devo mettere Non disturbare Buono Buono Se mi fa ancora Non so come devo fare oggi Allora Questo Il nostro Un Dinosauro È Armonite E lo possiamo fare volvere Se mettiamo un dinosauro sopra di loro Qualcuno lo dovrebbe già Se già la me lo dicesse E poi facciamo dei Così Commentate Oh Questo uovo non si vuole mettere Come al solito Allora Se avete Sto bene Sto Marino Dove posso andare a modificare I miei I miei Dinosauro Non ho molti soldi Ma orretanto questo Eh Peccato Su mettere su Squelli Allora Vediamo Questo è il mio Veloci raptor Pterodattilo Tirando Un Sauro Che è uscito da nuovo Aspetta Rascolgo un attimo I soldini Se mi richiamo Mi sto compiando Incazzare I soldini Dicendo Ovi raptor C'è Rattpo Galimus E nuovo Dinosauro L'ho sbloccato Proprio ieri Un chilosauro Bellissimo Basta che mi danno i soldi Se guardate in altro A sinestra A destra Ci sono I nostri Soldini Che ci servono Moltissimo Dovrei aver sbloccato La nuova zona Raccogli Queste cose Sono le nostre Missioni Specie di Dinosauro 10 Giungi livello 150 Probabilità 170 Spirazione Vabbè Che cos'è Io mi sono chiamato Francesco Il tirannosauro Che qua non è Il ratone Tutto Le tue abilità Crescono a vista d'occhio Francesco Il tirannosauro E lo stesso vale Per i tuoi Dinolottatori Forse è arrivato Il momento Di sfidare Altri giocatori Di fornirò L'aggesso A molti giocatori Sono i migliori Ok Quindi se qualcuno Ce l'ha Ed è arrivato Allo stesso Livello C'è il 20 Ci possiamo scontrare Eh Però devono stare Attenti Io già tengo Un bel po' di cose Questo lo voglio Già portare Se scaviamo Le rocce Ci vengono i soldi Potremo trovare Delle pepite Vedi Che poi le scaviamo Ci danno Un bel po' di soldi Si valgono da uno Però Se ci danno 20 Pure è buono Ci capitano queste monete Eccolo il dinosauro Che sono più famose Ok Ho finito Già Angilosauro Gallimnus No Sono troppo Ok 28 Dovremmo avere Abbastanza soldi Per vedere Qualche ci vogliono No Non le voglio acquistare 20 dinamiti Più tardi Più tardi Forse C'è una nuova Zone Sbloccata 200 No 2200 Voglio vedere Un attimo Qua dovrebbe stare Tirannosauro Se non mi sbaglio Non lo so Perché quello là Mi è uscito da No Bella raga Penso che questo qua Sia Prova andare qua Ah qua Dovremmo pure costruire Dinosa Trovere prima le ossa Non lo so Non ho trovato niente Un pezzo Sì Bello Mi scioppo un piccone Tato Tato Questo qua è il nostro Sicuro un tirannosauro Tato 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 Scavo tutto Ho trovato almeno Un pezzo buono I soldi Penso pure questo Sì Scioppo Sto pezzo E' buono Sto pezzo Sì Sì Ti chiedo Ecco E qua stava Sto pezzo L'odio Eh Ciao Andiamo Qui Non so Perché Sti cosi Mi danno Così nervi C'è un buon Ma Avrei andato Tutti Allora Questa È la parte Che piacerò A molti Di più di voi Eh Già Perché sono andato qui Non lo so Ecco Qui Ci andiamo a fare Uno scontro Nell'arena Di nome Arena Solo per vedere In ordine Questo è il nostro T-rex E voglio provare Lui Sessanta No 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 Troppo Forte Troppo 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 Vado Fare Uno sfida Qui Non lo so Non lo so Troppo Forte Ma perché mi chiamo Mio amico Proviamo Cerca di un avversario Contro Giù E' La scorreggia Io li mando Critico E' morto il nostro Stricerasmo Quando era brutto Stricerasmo Vinciamo noi Muori Vinciamo Che cosa ha Quello Già la super Super Ma infatti Noi c'ho La super Dovemo Vincere Muori Che ha 9% E' morto E mi metto pure a fare Vittoria 10 trofei E' morto Si sapeva Non è che poteva fare Grande contro di noi Visto che noi siamo Fortissimi Come tutto Quasi Dovremmo salutare Questo qua Sembra curarsi Però mi danno Troppo Sì Sì E se Mi tolgo Gli occhiali E li mettessi Lui Ah si Però Sì Voglio vedere Un attimo Come starebbe Con questo Bellissimo 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 Va bene Questo era il primo episodio Di una mini serie Da 10 episodi Che ci vedremo Piano piano E ci salutiamo Lasciate un like Iscrivetevi al canale Se è ancora la prima volta Cambia nell'ina E ci rivediamo Al prossimo video Ciao